Si faceva chiamare Bonnie Clyde sui social, la coppia di milanesi è arrestata a Milano questa mattina per concorso in furti aggravati. I carabinieri della stazione di Numana, dopo circa due mesi di indagini, sono riusciti ad individuare il duo criminale, composto da un uomo di 24 anni e da una donna 25enne, dediti ai furti sulle spiagge della riviera marchigiana e romagnola. I due che utilizzavano come base un'abitazione di Iesi sono ritenuti responsabili di aver commesso 28 furti per un valore di circa 30.000 euro nelle province di Ancona, Pesarurbino e Rimini, sempre con lo stesso modus operandi. I due ladri, ritenuti specialisti dagli investigatori, vista la frequenza con cui effettuavano i furti, si posizionavano sulla spiaggia fingendosi bagnanti, per poi approfittare della distrazione delle vittime per derubarle di zaini, borsoni, marsupie e portafogli, lasciati incustuditi sotto l'ombrellone o sugli asciugamani. La coppia poi scappava a bordo dell'auto del ragazzo, una Golf di colore nero, abbandonando per strada gli effetti personali non di loro interesse. Tra le decine di furti messi a segno dai due malviventi, avvenuti in gran parte nelle spiagge di Numana e Senigallia, a finire nel Mirino lo scorso 26 agosto, sono stati tre minorenni residenti a Foligno, che si trovavano a Torrette di Fano, a cui sono stati rubati denaro, occhiali da sole di marca e di rispettivi cellulari, oltre che alle carte di credito. Il giorno successivo, la coppia di ladri ha colpito ancora, sottraendo ad un 22enne di Angri che si trovava a Sassonia di Fano, la carta di credito, il suo telefonino, i documenti ed i cellulari che gli amici avevano riposto nel suo zaino.